Dove andranno i polisani durante queste festività? Allora sicuramente al caldo, i polisani hanno voglia di caldo quindi molto oceano indiano, Mauritius, Zanzibar, anche Maldive assolutamente, che ha un budget un po' più ristretto invece va in Egitto, va sul Mar Rosso. Alla vacanza non si rinuncia, magari si fa qualche conto in tasca però ci si va sempre, vero? Assolutamente sì, perché ormai dopo due anni di restrizioni la gente ha voglia di andare, se proprio il budget è troppo alto allora si spostano, magari vanno via dopo le festività ma non rinunciano. E che consigli darebbe alle persone per prenotare in tempo, organizzarsi? Beh ecco sicuramente per le festività bisogna prenotare, c'è gente che ha prenotato anche 3-4 mesi prima per risparmiare, quindi è sempre la prenotazione anticipata. Allora diciamo che i polisani come preferenza in questo periodo hanno avuto un po' le mete classiche, quindi destinazioni calde tipo Messico, Santo Domingo, Maldive anche e Mauritius. Poi per quello che riguarda il corto raggio le classiche capitali, Madrid, quindi Parigi, Londra, sono state quelle più gettonate perché sono quelle diciamo a più buon rapporto qualità prezzo. E quindi fondamentalmente queste sono le mete sicuramente più vendute. Diciamo che però c'è stato anche un po' di ritorno del Mar Rosso, ovviamente chi vuole spendere diciamo meno rispetto a queste mete un pochino più lunghe come Messico oppure l'Oceano Indiano ha preferito ovviamente Charm o Marsalam. E c'è stato un calo oppure siamo in linea col pre-Covid? No, non siamo ancora in linea con il pre-Covid, diciamo che più o meno siamo attorno a un 70% di fatturato rispetto al 2019, però ovviamente per noi è una netta bella ripresa rispetto al 2020-2021, quindi comunque possiamo definirci contenti. Quali sono i vostri consigli per mettersi una vacanza, magari anche risparmiare? Giustamente arrivare per tempo perché la disponibilità dei posti volo è inferiore rispetto al 2019 e di conseguenza in base alla richiesta ovviamente domanda offerta i costi dei voli sono più cari. Poi c'è da dire anche il fattore che tutto quello che riguarda ovviamente gli aumenti dell'energia e del carburante hanno inciso moltissimo e quindi i pacchetti risultano nettamente più costosi rispetto al 2019, cosa che sia i nostri rodigini ma anche gli italiani in generale non si aspettavano. Quindi il consiglio mio è di venire ovviamente per tempo perché i prezzi aumentano man mano che si avvicina la data della partenza in base alle vendite, quindi in base alla domanda. Sicuramente le città d'arte, città storiche e soprattutto la ricerca di caldo che durante il periodo natalizio fa sempre piacere. E nonostante le difficoltà economiche i pollesani hanno risposto positivamente, si sono fatti qualche conto in tasca oppure non hanno rinunciato alla loro vacanza? Allora, non hanno rinunciato alle loro vacanze anche se sono cambiate rispetto a quello che era qualche anno fa, quindi riducendo i giorni, cambiando la tipologia di mete, ma comunque tanta gente vuole ancora evadere, soprattutto a sfruttare quelle limitazioni che non ci sono più rispetto agli anni scorsi. E qualche consiglio per risparmiare? Beh, prenotare in anticipo sicuramente, prenotare il primo possibile è il fattore vincente in questo tipo di situazioni. Grazie a tutti.